Il trattamento farmacologico della tosse prevede due tipologie di farmaci. Nella tosse acuta noi usiamo dei sedativi. I sedativi sopprimono lo stimolo della tosse, non risolvono il problema all'origine, ma in quelle che sono le forme virali, che sono le forme che tendono a risolversi nel tempo ma sono particolarmente fastidiose per il paziente, ecco in questo caso il sedativo ha un'azione efficace proprio eliminando il riflesso della tosse. Parliamo di sedativo nelle forme secche. Nelle forme produttive, quelle catarrali, la tosse non va mai sedata perché la tosse serve per eliminare le secrezioni, per rispellerle, quindi in questo caso dobbiamo usare dei farmaci che favoriscano l'eliminazione, quindi dei farmaci protossivi, mucolitici, mucoregolatori e questi farmaci agevano alla fuoriuscita delle secrezioni e nel tempo risolvono il problema e accompagnano la risoluzione della tosse.